Una vittoria per chiudere in bellezza il campionato, 2-0 al Fano e sipario calato a suon di record da Lancona, dai 78 punti sul campo, 77 gli effettivi record nel girone F, al minor numero di sconfitte in stagione e poi l'imbattibilità nei derby marchigiani, numeri e statistiche che rendono omaggio al trionfo Dorico, al Mancini però è clima da ultimo giorno di scuola, 300 i presenti più o meno, senza tifosi bianco-rossi, ritmi bassi, anzi bassissimi perché la truppa di De Angelis è già salva e mette in mostra tutti i suoi giovani gioiellini Cornacchini invece non vuole perdere davanti alla propria città, di cose belle però se ne vedono poche, a parte un'iniziativa di Cicino che lo riesce a respingere, siamo al tredicesimo, poi più niente, si fa male Cazzola al ginocchio destro in uno scontro con Ginestra al suo posto entra Sivilla, la ripresa si fa apprezzare un pochettino di più dopo molti sbadigli, al quindicesimo Degano colpisce in pieno il palo su assist di Morbidelli che al ventitresimo sfiora il vantaggio deviando al volo di destro in area, palla di poco alato alla mezz'ora è la volta di Sivilla che, defilato, calce in diagonale Ginestra è bravo a ribattere coi piedi, passano altri cinque minuti e Degano su punizione scalda i guantoni del numero uno di casa, che alla fine sarà protagonista in negativo per i suoi, al trentottesimo esce male e permette a Morbidelli di offrire su un piatto d'oro a Pizzi una palla che basta solo spingere in rete, è il vantaggio che taglia le gambe al fano, con la testa sotto la doccia, i padroni di casa costruiscono una chance al secondo di recupero, colpo di testa di Sassaroli che esce non di molto, ma un giro di lancetta dopo, ecco un'altra uscita avventata di Ginestra, coi pugni sistema un pallone che Degano al volo, in sacca, all'angolino, per un'altra vittoria in una stagione memorabile.